Per la gestione dei rifiuti siamo ormai consapevoli che prima o poi quello che buttiamo ci ritorna sotto forma di cibo, acqua o aria. Al secondo forum di Legambiente si è parlato di economia circolare, un modo per ridurre al massimo i nostri scarti. Ma come? Bisogna puntare innanzitutto sulla riduzione della produzione di rifiuti e poi sul loro riuso e sul loro riutilizzo. Cioè far diventare il rifiuto non un problema ma una risorsa invece, come d'altronda avviene in tantissimi paesi europei. Questo è il grande obiettivo che abbiamo e la grande sfida che abbiamo. L'obiettivo non solo italiano ma europeo è quello dei rifiuti zero. È chiaro che per arrivare a questo ci vuole un cambiamento di cultura proprio di tutti i paesi. Vuole dire cambiare i cicli di produzione, vuol dire cambiare gli stili di vita. Credo che ci arriveremo, certamente non è un obiettivo a cui ci possiamo arrivare domani mattina d'amblè. Il 2015 ha registrato due importanti novità per la tutela dell'ambiente. Primo, l'inquinamento è diventato un reato da codice penale. Secondo, si è deciso di accorpare il corpo forestale, che sono civili, all'arma dei carabinieri, che sono militari. Fare la legge e eliminare uno dei corpi che da quasi due secoli si occupa di difesa del territorio ha fatto alzare più di un sopracciglio. La decisione è motivata dalla riduzione dei corpi di polizia e dal risparmio. Probabilmente il risultato non sarà solo di ordine economico. Certo, avremo anche un risultato di ordine economico e teniamo presente che in tutti gli altri paesi le forze dell'ordine, le forze di polizia erano numericamente inferiori a noi. Io credo che dall'accorpamento possa venire una forza ambientale più forte di quella che abbiamo oggi. Una forza ambientale che presiderà il paese, che potrà dare maggiori risultati di quanto ha dato la Guardia Forestale. Anche se devo dire che la Guardia Forestale in questi anni ha funzionato. Ma così funzionerà ancora meglio. Come legambiente noi ci siamo a lungo battuti per difendere il Corpo Forestale dello Stato, che in questi anni ha dato un contributo fondamentale in termini di controllo del territorio, di indagini in corso. Davvero un ottimo lavoro e i numeri del nostro rapporto Eco-Mafia, gli illeciti rilevati appunto dal Corpo Forestale dello Stato lo dimostrano. Dopodiché decisione presa, io credo che sia fondamentale che il Governo proceda rapidamente alla creazione e rafforzamento a questo punto del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, che è un luogo storico di difesa dell'ambiente. L'importante è che una volta fatta la legge ci sia uno strumento di supporto e di operatività che in qualche maniera non indebolisca quella legge. Siccome stanno partendo invece le prime indagini e si dimostra che quella legge funziona, adesso abbiamo bisogno di rafforzare la parte investigativa. Quindi si chiamino i Carabinieri, si chiamino il Corpo Forestale dello Stato, però difendano i cittadini e controllino il territorio. In attesa degli eventi il Corpo Forestale continua a lavorare e ora si è munito di un sistema di addestramento virtuale per affrontare incendi come emergenze ambientali. Il simulatore è stato realizzato in collaborazione con Vitrociset e l'Università Federico II di Napoli e servirà a formare il personale con un notevole risparmio rispetto alle esercitazioni reali.